Si chiama Montesilvano E, il nuovo brand voluto dall'amministrazione De Martinis che vuole essere a tutti gli effetti un marchio per identificare Montesilvano in tutte le sue peculiarità. Il logo fa riferimento alla presentosa un atto d'amore che il comune fa a tutto il territorio di Montesilvano per attrarre quanti più turisti già a partire da quest'estate. Il nuovo logo richiama i colori del mare, del sole e del verde. Alla vigilia di una stagione turistica che ci auguriamo possa rilanciare non soltanto il territorio di Montesilvano ma il turismo dell'intera regione Abruzzo, noi abbiamo inteso dotarci di un brand che possa identificare la nostra azione amministrativa, appunto le città di Montesilvano, il territorio di Montesilvano, che ha una serie di peculiarità tali da poter offrire tanto da un punto di vista turistico e da un punto di vista della vita dei cittadini. Di conseguenza abbiamo ragionato unitamente a chi ha in qualche modo lavorato a questo brand qualcosa che potesse identificare il territorio, potesse dare un messaggio e abbiamo voluto poi che questo brand fosse una sorta di dono d'amore anche nei confronti della nostra città, tanto è vero che a rappresentare Montesilvano sarà un simbolo che riprende un po' la presentosa, che appunto è un atto d'amore, un dono d'amore che sappiamo benissimo, chi si approcciava all'amata regalava proprio in segno di amore. E quindi ci sono tutti gli elementi che identificano il territorio e ci auguriamo che questo brand appunto possa viaggiare il più possibile anche a livello nazionale e perché no anche internazionale per far sì che tante persone possano raggiungere il nostro territorio anche per questo messaggio promozionale. Abbiamo deciso in buona sostanza di seguire le linee che seguono anche le imprese private, del resto al di là delle procedure pubblicistiche siamo un'impresa a tutti gli effetti che punta sul turismo e quindi necessita di strumenti importanti come un marchio che possa essere riconosciuto sul territorio sia nazionale che internazionale e che quindi sia in buona sostanza accostabile ad una città, ai suoi prodotti, al suo territorio, alla sua qualità. Grazie 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 Grazie